Buongiorno a tutti e benvenuti. È l'ennesima occasione di incontro oggi. Ci siamo incontrati il 18 settembre e abbiamo in quell'occasione discusso delle priorità strategiche per la prossima legge di bilancio e che è in piena fase di impostazione. Abbiamo anche richiamato alcune nostre priorità, un piano strategico, un piano di contrasto all'evasione affinché tutti paghino le tasse per poter tutti pagare di meno. È l'unico principio secondo noi che ci assicurerà quindi di poter efficacemente alleggerire la pressione fiscale. Un piano di rilancio per il mezzogiorno, la definizione di una nuova agenda di investimenti nell'innovazione della sostenibilità ambientale e anche non da ultimo abbiamo ragionato anche di potenziamento delle misure a beneficio della sicurezza sul lavoro. Il quadro economico internazionale si conferma difficile. La guerra dei tassi, le tensioni commerciali che sono ormai anche per noi si fanno sentire e sono una questione molto attuale, sta proseguendo e mette a dura prova il nostro settore manifatturiero, anche il settore dell'automotive. Abbiamo degli altri settori poi in particolare, un settore quello delle costruzioni che è in difficoltà da tempo. Ma anche per questo abbiamo tenuto nell'impostare con la Nadef la manovra, pur tutelando la solidità dei conti pubblici, abbiamo cercato di essere quanto più espansivi possibili in questo contesto. Rispetto allo scenario tendenziale di aumento dell'IVA, il Governo ha predisposto tutte le misure per evitare la stretta sui consumi delle famiglie che avrebbe comportato un rincaro medio a famiglia di 540 euro annui, evitare l'aumento delle clausole e quindi già di per sé riteniamo ha un forte impatto che andrà a sommarsi anche alle misure di sostegno ai redditi familiari, come anche il taglio al cuneo fiscale, su cui oggi poi inizieremo a ragionare più dettagliatamente, e anche a una meticolosa azione di sblocco degli investimenti ancora fermi, perché sicuramente un'altra direzione strategica di azione del Governo è quella di sbloccare gli investimenti, di accelerare la spesa su questo fronte, perché gli stanziamenti ci sono, ma la spesa stenta a decolare. Non vogliamo lavorare in maniera autoreferenziale, questo credo sia ormai chiaro, dobbiamo procedere fianco a fianco per lavorare a un'Italia più equa, più verde e più inclusiva, che riattivi il motore della crescita economica dello sviluppo sociale. Quindi il contributo delle parti sociali è prezioso e siete un punto di riferimento per il Governo, voi e anche le altre parti sociali che oggi non siete a questo tavolo, anche le varie rappresentanze di categoria. questo Governo avverte tutta la responsabilità delle decisioni che prende e quindi ha piena consapevolezza di dover decidere per il bene del Paese, ma lo vuole fare nel confronto con voi. E questa è l'ulteriore conferma, questa riunione, che siamo qui per continuare il nostro confronto e il nostro dialogo.